Dispiace tantissimo perché era una bravissima persona, una persona che era rientrata da circa un mese, aveva avuto diversi problemi di carattere familiare, aveva trovato serenità, si era risposato, aveva acquistato pure casa, aveva una serie di difficoltà anche di carattere economico. Dispiace tantissimo, una persona molto perbene. Devo dire che purtroppo è stato un evento del tutto accidentale. È arrivato un temporale all'improvviso, dopo 5-6 minuti di acqua, loro anziché forse mettersi a ripare, andare via, si sono riparati al di sotto di quella che è la struttura che gli consente di fare la vedetta. Lì un fulmine, da quello che abbiamo capito, ha beccato un traliccio di legno che è tutto bagnato, probabilmente ha trasmesso poi l'energia al di sotto dove si è trovato ed è stato preso in pieno. C'è anche il collega che, adesso ancora non abbiamo notizie precise, è ricoverato all'ospedale di Locri. L'azienda è vicinissima, ci faremo carico di tutte le spese per il funerale. Vedremo come poter aiutare la famiglia, come poter ricordare questo povero ragazzo. Dispiace tantissimo, sono andato sul posto a vederlo in quelle condizioni, sinceramente l'Arlando. Adesso vedremo un attimo il magistrato, domani informeremo anche l'INAIL per tutte le spette di carattere amministrativo. Gli eventi atmosferici stanno cambiando, adesso abbiamo fenomeni stranissimi che si verificano al giro di pochissime ore. Oggi in quella zona per esempio c'erano incendi e mentre si lavorava gli incendi all'improvviso da altre zone bisogna comunque provvedere a stare attenti all'acqua che scende giù. La stessa cosa che lo scorso anno è avvenuta su Arraganello. Da una parte c'era la tragedia, dall'altra parte invece avevamo incendi a distanza di 10 km grossissimi. Grazie a tutti.